Progetto Edugeek è il progetto pilota della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savat, Shootbox e Sambo grazie al quale per la prima volta in Italia la kickboxing entra a far parte delle materie didattiche in una scuola superiore a potenziamento sportivo è stato ideato ad hoc dalla Scuola Nazionale di Formazione della nostra federazione e successivamente è riconosciuto e integrato dal Ministero dell'Istruzione, delle Università e della Ricerca è un progetto che non prevede costi aggiuntivi per la scuola né per i ragazzi in quanto è svolto dai nostri tecnici all'interno delle quattro ore di scienze motorie che normalmente i ragazzi svolgono negli istituti a potenziamento sportivo in tali ore i ragazzi apprendono i fondamentali della kickboxing imparano a gestire il contatto con gli altri e le emozioni che possono scaturire da questa forma di combattimento la propria e l'altrui sicurezza la kickboxing favorisce un'approfondita conoscenza e una maggiore fiducia di se stessi del proprio corpo, dei propri movimenti perché sviluppa capacità condizionali e coordinative attraverso una pratica fisica completa inoltre l'insegnamento dei valori sportivi della kickboxing permette ai ragazzi di rapportarsi in modo sereno con l'ambiente che li circonda li educa al rispetto verso il prossimo verso il proprio avversario fungendo anche da freno a determinate atteggiamenti di bullismo che sono molto presenti soprattutto tra i giovanissimi la mia personale speranza è quella di vedere un giorno le palestre degli istituti scolastici attrezzate per la pratica del kickboxing e degli sport da combattimento in generale sono sicuro che renderebbe ancora più interessante lo svolgimento delle ore pratiche di scienze motori e delle ore pratiche di scienze motori e delle ore pratiche di scienze motori